Ciao mitici, oggi vi voglio parlare di giochi di prestigio, oggi voglio parlare di magia, è tanto tempo che non faccio video a riguardo, però stavo parlando con un amico e gli stavo facendo una riflessione, una considerazione, una cosa che io penso e di cui sono profondamente convinto e cioè che il modo di approcciarsi alla magia della maggior parte delle persone parte da presupposti fondamentalmente sbagliati, sbagliati e che più vanno avanti ad interessarsi di magia e più si allontanano dall'essenza ed è per questo che a volte si dice che un bambino si avvicina di più a certe verità che degli adulti, perché il problema è proprio che si prende una strada sbagliata e uno dice ma io ho perseverato e tanti anni, è tanti anni che stai su una strada fondamentalmente che ti allontana dal cuore dell'essenza, della magia, ma vedrai che fondamentalmente è vicino, una volta che azzecchi il modo di interpretare è vicino al cuore dell'essenza di molti altri argomenti di crescita personale e cioè il fatto che molte persone attribuiscono al valore della magia un valore simile e proporzionato al valore dell'oggetto che veicola a questa magia, a questo gioco di prestigio. senti dire, ma quello è un gioco di una magia che costa solo 5 euro, ma quell'effetto là è fatto con una cosa di plastica che viene solo 7 euro e sminuendo in questo modo il gioco di per sé, dimenticando che non c'è nessuna correlazione tra la magia e l'oggetto che hai utilizzato. Certo, se fai un gioco con le monete potrebbe essere utile con una moneta che abbia determinate caratteristiche, un metallo che non sia scivoloso, un metallo che abbia un certo diametro per poter frapporsi tra due diversi tipi di muscolatura e quindi la caratteristica dovrebbe essere quella là, quella di avere un determinato spessore, ma non è detto che un metallo che costa poco sia per fare quel determinato gioco migliore di un metallo che costa tanto e quindi non è detto che ci sia questa correlazione e soprattutto il metallo è solo un mezzo, ma quello che fa il gioco di prestigio è il silenzio. Tu prima di fare un gioco dovrai fare delle pause, dovrai fare il silenzio. Una persona di queste, diciamo, superficiali che dice, no, ma il gioco è costato solo 5 euro, quindi è un gioco da poco. E allora il silenzio quanto ti è costato? Quanto io vorrei proprio fare, non so, da quanto costa una pausa di un secondo? Il bimbo minchia, diciamo per bimbo minchia, ci sono pure bimbi minchia di 50 anni, come me, quindi il bimbo minchia ti potrebbe dire, il silenzio non costa niente, quindi il silenzio non vale niente. E il cervello? Quanto costa un etto del tuo cervello? Io non ho pagato niente, quindi il cervello non vale niente. E l'esperienza passata, i viaggi che hai fatto e le canzoni che hai ascoltato? Quanto valgono? Le prove che hai fatto? Quanto valgono? Quindi il gioco di vestigio, io mi ricordo quando qualcuno mi dice, ma questo è professionale? E la domanda che io mi sono sempre fatto è, ok, io ho fatto, ho fatto il professionista, e quindi, di giochi di vestigio, e quindi quando uscivo, quando uscivo prendevo un normale mazzo di carte, quindi un mazzo di carte da 3 euro, da 2 euro, insomma, un mazzo di carte da 2 euro mi mettevi in tasca e mi domandavo, ok, questo è professionale, allora io mi sto in tasca e ho i 2 euro, poi mi mettevo qualche moneta, ma normali, monete normali, certo cercavo le caratteristiche che ti ho detto prima, che avessero quel diametro giusto per fare quel gioco, ma non che dovessero essere grandi, perché in alcuni casi il diametro giusto era una moneta piccola, una moneta da un centesimo, quella da 5 centesimi, quindi non è che c'è un rapporto legato alla magia, quindi magari mi mettevo in tasca delle normali monete, o un pezzettino di spago, o un elastico, un elastico normale di quelli che ci tiene i capelli, e quindi l'idea, ma questo è professionale? la risposta deve essere, professionale è quello che fa il professionista, e il valore di un segreto non è legato all'oggetto, perché senti dire, sì però le grandi illusioni le rispetto, mentre non rispetto le altre cose, questo qua è un approccio, è un approccio strano, perché in realtà qualsiasi segreto, io ti vorrei far vedere il segreto più banale che esiste, proprio per il fatto, nei giochi di vestigio, proprio il fatto di essere banale, quindi trascurato dalla maggior parte delle persone, lo potrebbe rendere un effetto originale, messo nelle mani delle persone che sanno valorizzare quel determinato segreto, potrebbe diventare una cosa che cambia le elezioni del Presidente degli Stati Uniti, che cambia il corso della storia, che vince una guerra, che fa crollare le borse, cioè l'inaspettato è a volte frutto del sentiero non percorso, è per questo che i precursori hanno un valore tattico, strategico incredibile rispetto a chi fa vie previste, prevedibili e già battute. È nel coraggio di vedere quello che c'è, quello che c'è che non è nient'altro che un nuovo sentiero, una nuova strada per arrivare al medesimo punto d'arrivo, perché se c'è qualcuno che è arrivato ad emozionare, a far piangere per arrivare a un determinato punto, se quella strada viene troppo battuta in qualche modo hai anestetizzato, hai eliminato la capacità di quella determinata strada di arrivare a quel punto finale con il risultato ottenuto in passato e invece il precursore capisce quali sono gli step per poterci arrivare, l'inizio, il viaggio, l'arrivo, ma cambiando totalmente le prospettive, non passando per quel tipo di sentiero ma inventandosi un nuovo tragitto. Parliamo di quello che ho fatto io in passato che è poi quello che conosco meglio, ad esempio il gioco dei bussolotti, quello fatto con bicchieri di plastica che la maggior parte delle persone che ha l'approccio che dicevo in precedenza potrebbe dire che quello è un gioco fatto con tre bicchieri di plastica che potrebbero essere altrettanto tre bicchieri di carta che non cambierebbe niente e quindi è un gioco da poco, è un gioco da poco. Invece quell'altro, quel gioco fatto con il bicchiere di metallo con la calamita, allora siccome c'è la calamita, quello è un gioco da tanto, dimenticandosi dimenticandosi l'approccio che vi stavo dicendo. Ebbene, io, il mio gioco preferito in generale, pur avendoli conosciuti tanti, non dico tutti perché però perlomeno i principi base della magia cambia la forma ma non sono poi così tanti, quindi posso dire anche di averli conosciuti tutti i giochi di prestigio, cioè tutti i vari tipi di approcci che ci stanno nelle varie categorie. Eppure il gioco dei bussolotti mi sembra che rimanga ancora l'insuperato, ma proprio quello semplice, semplice, con tre bicchieri che potevano essere tre bicchieri di legno, che potevano essere tre bicchieri di carta, che potrebbero essere tre bicchieri di alluminio o in carbonio non cambierebbe niente. Questi bicchieri girati in questo modo racchiudono in sé tutte le strade possibili per arrivare dovunque e a questo punto il fatto di riuscire a ricreare l'universo anche se la stanza è piccola. Uno ti potrebbe dire guarda tu c'hai a disposizione l'Australia, questo è un lato oeste dell'Australia, lato ovest sta a 3.000 km di distanza, c'hai questa distesa sconfinata, fai quel che vuoi. Forse potrebbe essere addirittura spiazzante e depistante dare un territorio vasto senza confini, forse la creatività si esprime meglio se tu mi metti all'interno di una cella di pochi metri quadri e dici hai a disposizione questi tre metri quadri, riesci a ricreare un universo adoperando solamente un bicchiere e una pallina? Ecco, questa è la domanda che ci si dovrebbe fare, non è il valore, non è il valore del segreto del volume del materiale, di quanto era lungo il libretto di istruzioni, ma hai a disposizione questo territorio limitato, riesci a costruirci sopra un castello, riesci a creare un'emozione fino a piangere semplicemente utilizzando il materiale che hai a disposizione, perché è vero che il materiale potrebbe essere solo un bicchiere di plastica, una pallina, ma quello che invece è sconfinato è il tuo cervello, la tua voce, le luci, c'hai ancora tantissime cose intorno, quindi limitando, limitando una area non poi così importante nei giochi di vestigio, cominci a scoprire che ci sono altre variabili che quelle sì sono inestimabili, il cervello, il cervello non l'ho pagato niente, eppure poi ci si accorge quando la salute va via di quanto possa essere importante vedere, parlare, ragionare, e quindi a quel punto ti senti quanto eri stupido, ma davvero ero così bimbo minchia che pensavo che quel gioco in quanto il materiale che lo componeva era di plastica di solo 5 euro, non avesse un valore, o avesse un valore limitato, perché il segreto era scritto su un foglio di carta, invece di essere messo su un supporto, capito, con una bella copertina fotografata, magari il segreto non c'era neanche bisogno che c'era scritto, ci arrivavi da solo, lo ragionavi, e il segreto di per sé, il segreto di per sé di un gioco di vestigio non è mai un qualcosa, è una svista, è un inganno del prossimo che non se ne accorge, quello che rende il gioco di vestigio davvero interessante sono i meccanismi psicologici che lo portano ad essere digerito dal pubblico, ed è per questo poi che si capisce come una persona che ha capito come approcciarsi alla magia, poi, dopo, riesce a percorrere lo stesso percorso in altri ambiti, che si parli di finanza, di economia, di geopolitica, di artigianato, da fare gnameria, all'arte che potrebbe essere scultura, pittura, danza, e la riuscire a capire delle sfumature che vengono tralasciate da molti. La cosa che ho visto in generale è che la maggior parte delle persone che si occupano di giochi di prestigio non hanno capito l'essenza dei giochi di prestigio e la maggioranza, 90% di quelli che si occupano di giochi di prestigio come appassionati non l'hanno capito e la maggioranza di quelli che ci si approcciano da semiprofessionisti in realtà non l'hanno capito e la maggioranza di quelli che ci si approcciano da professionisti hanno ancora delle grosse incertezze su questa cosa qua. Poi invece quando vedi il vero artista, che comunque è raro, allora tu vedi che cominciano a esserci dei fattori comuni ed è per questo che mi capita di vedere che l'artigiano che fa determinate cose in un determinato modo, ma vero artigiano artista, che poi a molti artigiani non gli piace essere dichiarati artisti, però il tratto comune sono quelli che si approcciano con un certo rigoro, una certa attenzione a dare delle conclusioni e difficilmente tendono a svalutare e a sottovalutare dei particolari rispettosi del materiale e del lavoro. Per questo che trovi il grande finanziere, la persona che ha fatto tanti soldi con la finanza, che non solo compra opere d'arte per speculazioni, ma li compra perché ritrova nel più grande pittore del passato dei tratti comuni con quello che è il suo rigido approccio a una materia che sembra magari invece totalmente fredda, ma fredda non è perché ha comunque a che fare con l'essere umano, con la prevedibilità dell'essere umano, con i percorsi che vengono proposti, in maniera tale che se una persona gli fai fare una curva a destra-sinistra, a destra-sinistra, si trova già predisposta a fare un determinato percorso. E chi ha fatto una misdirection, una deviazione dell'attenzione, una guida dell'attenzione, guidare l'attenzione delle persone in processi che potrebbero essere creativi nel caso dei giochi di prestigio o di ingegneria sociale nel caso di portare le masse ad avere una determinata reazione, sono molto simili. Quindi puoi trovare il prestigiatore o puoi trovare il pittore che hanno fatto, ognuno con la propria arte, ognuno con il proprio artigianato, dei percorsi diversi, ma nel totale potrebbero dire sì. Eppure si tratta solo di pennarelli, della Giotto che ho comprato al supermercato a solo 5 euro, quindi il disegno non vale niente. Invece magari il pittore diceva che non fa niente che il disegno che i pennarelli li ho comprati dal cinese, ma dietro il mio impegno era sul creare l'emozione. Il pennarello è stato solamente un mezzo. Il pezzo di legno l'ho trovato nel bosco e non vale niente. Eppure l'artigiano che ci ha tirato fuori un oggetto emozionante come un manico di un coltello potrebbe dire vabbè non fa niente che l'ho trovato nel bosco in legno. E quello che gli dà valore è la mia interpretazione di questo manico di coltello. E quindi il valore ritorna ad essere centrale. Il 90% è una cosa che trovi sempre. Quando tu vedi che ti ritrovi nel 90% ti viene il dubbio di dire forse sto percorrendo una strada sbagliata. Sai chi diceva quando vedo che c'è gente che mi dà ragione, quando c'è troppa gente che mi dà ragione comincio ad avere la sensazione di star sbagliando qualcosa. Ed è io credo che questa regola sia fondamentalmente vera. Come il prestigiatore che quando fa un gioco il 90% delle persone ha già capito il trucco. Come chi racconta le barzellette quando il 90% delle persone arriva a sorridere perché dice sì ho già capito dove vai a parare. E così è una regola che diventa generale per qualsiasi persona. Se tu tenti di creare un finale a sorpresa in qualsiasi sia il tuo ambito, finanziario, politico o artistico, crei di creare il finale a sorpresa e durante la strada che fai intraprendere al tuo pubblico seguendo le traghiettoglie che ti vai a indicare, hai dato già la possibilità di capire dove vai è evidente che la strada che hai intraprese è una strada sbagliata ed è per questo anche che nei giochi di prestigio quando tu vedi un gioco che ti sembra banale e quindi lo trascuri è lì che forse il grande artista ha la possibilità di dire ah sì è proprio per questo perché dietro c'è un principio c'è un principio ma trascurato dal bimbo minchia classico che dice no questo non vale niente, quello che vale io copio, io come riferimento questo qua che ha fatto 100 milioni di visualizzazioni e quindi quello che ha fatto lui vale, quello che invece è trascurato da tutti non vale, invece è là la persona che ragiona con la sua testa e che riesce a inventarsi un sentiero là dove ti sembra che ci stanno solamente siepi e ostacoli, là tu dove ti inventi il sentiero quella strada, la strada non solo non battuta ma che neanche esiste quella è la strada che ti può dare un risultato che è davvero sorprendente per chi ti guarda e potrebbe essere sorprendente anche per te bene ragazzi era tanto che dovevo fare un video di giochi di vestigio e questo è il mio contributo per il 2024 ci vediamo al prossimo video ciao mitici